Kant, la natura guardata materialmente e la natura guardata formalmente. Nella critica della ragion pura, nella sua prima edizione del 1781, Kant distingue attentamente tra una natura guardata da un punto di vista materiale, natura materiali ter spettata, e una natura guardata da un punto di vista formale, natura formaliter spettata. La natura guardata dal punto di vista materiale coincide con l'insieme delle cose che ci circondano, è in realtà l'intera realtà fenomenica, così come ci appare e come materialmente la contempliamo nel mondo esterno. La natura guardata dal punto di vista formale sta a monte di quella vista materialmente, è per così dire la natura vista con le leggi generalissime del nostro pensiero. Detto altrimenti, la natura guardata dal punto di vista materiale è la natura contemplata empiricamente così com'è dinanzi a noi. La natura guardata da un punto di vista formale non è la natura guardata come realmente è nel mondo fenomenico, ma è la natura quale noi possiamo guardarla guardando alle nostre categorie del pensiero, che sono le basi stesse trascendentali del costituirsi del mondo fenomenico come ci appare. Detto in altri termini, noi potremo vedere le sostanze materialmente nella natura, ma potremo anche vedere formalmente la sostanza come categoria sul piano formale. Ecco, queste leggi generalissime del nostro pensiero sono giudizi sintetici a priori, ad esempio il giudizio di causalità è a priori perché assolutamente necessario e sintetico perché il concetto di effetto non è già presente implicitamente nel concetto di causa, ma devo costruirlo mediante la sintesi. Sicché per avere una fisica pura sono necessari i giudizi sintetici a priori, dotati di assoluta rigorosità, sono a priori, quindi non mediati da quell'esperienza che Hume Docet può sempre essere oggetto di dubbio, ma sono poi al tempo stesso capaci di dare conoscenze nuove, non tautologiche, sono sintetici. Ed essi ci dicono qualcosa di arricchente sul piano conoscitivo. Ci sono nella natura fenomenica poiché è il nostro stesso intelletto ad attribuirglieli. Le leggi rigorose che governano il nostro pensiero le ritroviamo anche nella natura. Il che rende possibile una fisica pura, assolutamente rigorosa. In sintesi, la natura guardata da un punto di vista formale, cioè attraverso le leggi generalissime che regolano il mondo esterno, non è altro che la fisica pura che Kant ha dimostrato possibile. La natura guardata da un punto di vista materiale, invece, comprenderà sì le forme generalissime della realtà, ma accanto ad esse vi saranno anche i dati sensibili. Potremmo dire, come la critica ha messo in luce, che Kant con questo modo di operare non ha fatto altro che trasformare le categorie della fisica newtoniana in categorie a priori della nostra mente, in una sorta di naturalizzazione della fisica newtoniana.